Signore e signori, come avrete intuito qua la spamba, si fanno delle cose meravigliose, ma ora è il momento di una battaglia epica. Signore e signori, si prepariamo il lino alla gioia, perché adesso vi faremo sentire dei brani classici, dei brani rock, e lasciamo il giudizio a voi. Come primo brano vi presentiamo l'inno alla gioia, che lo conoscete tutti, l'inno europeo, e facciamo anche un applauso a Laura, scusate. Come ripeto ogni settimana, questi bambini non suonano nessuno strumento, hanno imparato su quello che vedete qui, l'hanno imparato qui, per cui preparate le mani perché sta per partire l'inno alla gioia, il primo brano. Grazie. 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 i grandi verdi con la marcia triunfale dell'Aida signori sono tutti pronti? le tastiere ci sono, siamo pronti? signori e signori la marcia triunfale signori 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 a cui farei un bel applauso Grazie a tutti 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 Grazie a tutti